buongiorno a tutti cari amici fan sono qui perché proprio non molto fa la nostra tenista con nazionale italiana stefanini numero wte 399 ha battuto la giapponese ozumi numero wte 332 per 2 7 a 0 nel torneo wte della thailandia 2 a 0 appunto con i parziali di 6 3 6 1 38 minuti il primo e 23 secondo vittoria della nostra con nazionale quadrata 180 quindi va al prossimo turno e concludiamo appunto ribadendo che per il torneo femminile wte della thailandia qualificazioni cevendo la nostra con nazionale stefanini ha superato per 2 7 a 0 la giapponese ozumi 6361 alla prossima